... ... ... ... ... ... Rai, 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 Rai. Rai, 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 R la una grande probleme, nella nostra ha anche una bultre e concentranti. Abbiamo visto che spesso che ci sentiamo molto abisciato a questo motivo, ma come upо sul tuo diritto di questo punto, non è un domande, non è possibile a tutti i suoi problemi. Non ci sono ancora le questioni che ci ipnoti, Un'altra cosa è che la prasana uttara è una mia nama. La mia nama prasana uttara non ha mai, non ha mai avuto la mia nama. e quando si è riuscita a tutti i problemi e si è riuscita a tutti i problemi. Quindi i problemi di tutto questo, quindi la mia domanda è un problema. In questo caso, il mio padre ha detto che il mio padre ha detto che il mio padre è un problema. La sua 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 sua. Questa ci si dice che l'ipone di un ha trafiti. Questa ci viene? Si fa 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 fa. Simittate! Three e le sa intelligenti all'isci. Dicenta che questo l'ipone che si ha! Kishore ho hai, toh kiaan sa? Kishore ho hai, toh kiaan sa? Viro svaal è un po' Kishore shun kare Viro svaal, Kishore chè Viro svaal, Kishore kiaan sa? Viro svaal, Kishore shun kare? Viro svaal, Athana svaal as. Viro svaal, Teh nne turis dhivasne muntara haju su. Tikh minam, a turis dhivasuma, damare jawab haiya maana midar shaga shun. Avie chekora euro agaya aki. Aksha pravasa sa pravasaaneh tridahanto, kota nne garega. Viro svaal. Il nostro corso gratuito www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito di te bella stai che? Sì. 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 Mi hai già piaci chiedi? Sì. Sapetevole cosa ne sanno tutti? Non si può fare di bagunza, non si può fare di raggiungo, non si può fare di cadere, non si può fare di come canero, non si può fare di baguare, non si può fare di amici. Non si può fare. Quindi si può fare di le rimane, Quindi, perché se dice che una vita torna, la mente deve essere affermi a usa una sua vita. So, questo è il vero. Come si sguire alle persone sono fatti, questo è proprio successo. Come si sguire alle persone, come a riscolare l'essere, fare alle persone. E' un'unico niente. Non c'è nessuno, non c'è nessuno, non c'è nessuno, non c'è nessuno. Che vede, mi ha detto che, se ti chiedi, se ti chiedi, se ti chiedi, se ti chiedi, Quindi, questa è la mia vita. Non ci sono i rispondri, non ci sono i rispondri. Quindi, questa è la mia vita. Non ci sono i rispondri, non ci sono i rispondri. Non ci sono i rispondri e non ci sono i rispondri, è la mia vita. Ora, si la mia vita fatta, questa è la mia vita. Si, questa è la mia vita. Cos'è la mia vita? Non ci sono i rispondri? Qui si è considerato la mia vita? La mia vita fattaissima. Non ci sono i rispondri, perché non ci sono i rispondri. Ci sono i rispondri. E, si che se non è andato, se non è andato. Siamo arrivati a me, di Chiamatri, di Chiamatri. Siamo arrivati a Cagò, di Chiamatri. Saldriggiti 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 La mia attra una svalta mi piace Ma non è tutto scizziare Nella via marietta marietta A l'accelerazione Marietta è un'acce Saldriggiti Il che si è un'acce Il che si è un'acce Quindi sono i nostri amici, non ho fatto bene. Il fatto che il ragazzo è un ragazzo, che ha detto che il ragazzo è un ragazzo di questo. Il ragazzo è un ragazzo. Non è un ragazzo, non è un ragazzo. Non è un ragazzo, non è un ragazzo. anche adesso devi dire che tu ti rischi challenge! Gesù跟 Jee high price di va a girare? Verali, viedi a girare? E adesso devi andare a girare? non si sento il cattolo, che mi ha detto a aprile, si sento il cattolo, si sento l'acquino, si sento il cattolo, si sento il cattolo, allora non ti sento, non ti sento, ti sento, non ti sento nella mia focina, Si l'acquiette le? C'è un sacco di battaglia, ma ha pensato che non c'è un sacco di Maharas, ma pensato che non c'è un sacco di Maharas, ma non c'è un sacco di Maharas. Ma non c'è un sacco di Sinaasam, ma ha pensato che non c'è un sacco di Maharas, Il nostro corso gratuito è il nostro corso gratuito www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è 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 www.mesmerism.info Sora percebi il corso gratuito è un corso gratuito! Hanno ilバイio? Galera, hai assagtio. Niente faccio, hai assagtio, hai assagtio. Non so che lo vedi che non so che non so son. Niente faccio, con cui si è assagtio? Alla sì, allora che cosa si è assagtio? Askarmanha, hai assagtio? Askarmanha, hai assagtio? Non so che ci sia? Askarmanha, hai assagtio? No, non so che lì. Ma quella che non si può pensare, non ma che non si può pensare. Non si può pensare, non ci si può pensare, non si può pensare. Segui un po' di luogo, non si può pensare. Poi, guarda che, guarda che ne. Il nostro corso gratuito www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito www.mesmerism.info Siamo in un'esplice di un'esplice. E' un'esplice di un'esplice di un'esplice di un'esplice. E' un'esplice di 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 un'esplice ... Non c'è nessuno? Dù Dù, che vanno a fare? Sfai Ma che vanno a fare? Sfai Ma che vanno a fare? Dìa Ma che vanno a fare? Dìa 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 Ad esempio, di umano, in giro, gioce e non Quindi, come come, poter l'acchire, si deve che fare la madre? Scusa, dove si fatta l'acchirebbe? Si fatta l'acchirebbe, si fatta l'acchirebbe. Cozza,ichi ha un risotto, dolcezza. assavana si 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 Miestro di Vigida Rite. Non è possibile. Non è possibile, non funziona. Noi, non si può fare tutti i nostri geni. Quindi lui, seriamente riposate come Devo Vangarano. Vivano le preposteri. Adesso lo so che il mondo è diventato. Non ci sono tutti. E' un'esplice. Si. Il mondo è diventato. Come si diventato? Non ci sono. Si, un ragazzo di ragazzo. Si, ragazzo, come si è diventato? Come si è diventato? Per chi dice, deve a fare il processo di graare, o saranno moll'e vitto? Perché? Perché? Perché il processo di graare? Perché deve avere il processo di graare? Perché il fatto il processo di graare? Quando vi invece vedere il processo di graare, noi non ci vediamo? Perché il fatto il caso di graare? che ha pragasco, per il chocio di gare, che ha pragasco, attra di un di gare, che ha pragasco, che ha pragasco, che ha pragasco, che ha pragasco, vallate dei gare, pragasco, a me dei gavati, Prakash. 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 Prakash kia ha? Prakash. 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 Ah. Quindi la madre della dana cosa che ha detto? Andavu, che savasse, il diva di puja avuto. Prakash kia ha? Prakash. Sarvatprashe. Eishwara kia ha? Prakash. Ishtra Kish гдеza? Odprakash. Ishtra Kish with God and down the herself. Trioischer swanari da bava Kishwa? Viswara soya. Ishtra Kishwa. Ishtra Kishwa kia. Ishtra Kishwa. Raja is sure toath us from the who интерес the four travelers. Oh. Ishtra Kishwarshi where's theues of God? se si accette alla città di nessuna della città di nessuna, ma non è la propria indietro, ma non è la propria indietro? Cosa? Si chiede? Si chiede. Si chiede? 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 Sopriò Pannani Perchè lo stavolato? Sopriò Pannani Non si un tema parà? Sopriò Pannani Sopriò Pannani Sopriò Pannani Sopriò Pannani Sopriò Pannani Alla cosa è una esperta, è vero? Come si è un sacco di questo Sopriò Pannani Io stavolato? Lo stavolato? Sopriò Pannani Ma pensi… pra l'ora? Io stavo sono l'ora? Mi sono stare otra, è vero? Lo stavolato? Sopriò Pannani Un rectangle Cica di un'altra Dimenticiamo Lo stavolato ciò? No Lo stavolato? No Se capolato? No puttra, dai ma, hai musica libro c counciletti che è andata significa Immordini che fatto di potere beh, l'idio a cuore è, con cui si pronto e senza mantenere le signali, nu ti sento La maggiata. Quale è la quale? Isha Nune. Adesso benvene a Isha Nune. Ahhhh. E'ne il suo padre di e a me. So, che'e il suo padre di e a me. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. cosa un'amore a cello? e nem c'ha nam gel ma rendono più richiesto non è? tutto nam gel dai che ha cello? dimenticiamo di quelli che da? gi che si mi era bravo 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 asciutto 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 ah? hai detto asciutto masciutto i ancia e arrivavano acciutto eh? no ah Il nostro corso il nostro corso gratuito www.mesmerism.info 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 Quindi dobbiamo fare i potenti, i potenti fare i potenti, i potenti fare i potenti fare i potenti. In questo modo, quello è che esistico è molto importante. Ma non ho capito, non ho capito. Non ho capito. Dovano a prendere? No. Perché non è una storia. L'impianto non è un'impianto. L'impianto non è un'impianto. Grazie a tutti i nostri amici.